Ciao a tutti, sono Matteo dal nostro magazzino di Cambiago di Mano in Mano e come ogni settimana vi presentiamo dei nuovi articoli che andranno in pubblicazione la prossima settimana. Oggi 10 articoli di Modernariato, tra cui parecchi di design firmato, quindi seguiteci in questo video. Prima di iniziare, le solite cose, vi lascio i miei contatti 351-690-4263 o assistenzaclienti-di-mano-in-mano.it per scrivermi per qualsiasi informazione su questi prodotti o su altro, per i nostri servizi di consegna, restauro, eccetera, eccetera. Altra cosa, iscrivetevi al nostro canale e se vi piace mettete un bellissimo like. Alla fine del video vi diremo anche chi ha indovinato il prezzo del prodotto, che abbiamo quella lampada, se vi ricordate, perché ci ha seguito del precedente video e il nuovo gioco, il nuovo oggetto da indovinare al prezzo per appunto poi vincere un buono, diciamo per chi non lo sa, di 100 euro su 500 euro poi di spesa minima. Altra notizia importante, domani c'è lo Luke & Reed, evento attesissimo dai nostri lettori, a Milano e Cambiago, quindi tutte e due le nostre sedi, dalle 10 alle 19 con orario continuato. Alla fine del video, magari adesso stanno allestendo, facciamo un piccolo giretto nell'esposizione e chiediamo magari a qualche ragazza di spiegarci come funziona, e come funziona, per chi non lo sapesse. Cosa facciamo? Partiamo subito col botto, perché questo è un bellissimo cassettone di Carlo De Carli, prodotto per Sormani. È il modello D154, sono impappinato. E' appunto una cassettiera che viene prodotta a partire dal 1963. E' questa linea, come potete vedere, molto elegante, raffinata, realizzata in legno, laccato bianco, mentre i puntali e i pomoli sono in ottone. Ve lo apro anche per farvelo vedere, perché è veramente molto bello anche l'interno. Le sue misure sono 81 di altezza, 144 di larghezza e 54 di profondità, e il suo prezzo è di 2500 euro. Vi ricordo, prima di passare al nostro secondo articolo di oggi, che tutti i prodotti che vedete sono già acquistabili, e quindi potete scrivermi tranquillamente i contatti che vi ho lasciato. Passiamo a questo gruppo di sei sedie vintage anni 60-70. Prima di descrivervele, volevo appunto ricordarvi che possiamo provvedere noi all'imbottitura e poi al tessuto per tutto quello che vedete che è l'imbottito. Quindi, abbiamo presi due campionari, ma ne abbiamo tantissimi. Si può scegliere tipo di tessuto ed eventualmente colore, chiaramente, con cui rifare le nostre sedute. Allora, vi dicevo appunto, ve lo libero così Giada lo fa vedere meglio. È un gruppo di sei, ve ne ho messa qua una da farvi vedere, anni 60-70 di produzione italiana, con struttura in legno a vista, con braccioli, seduta e schienale con imbuttitura in espanso, rivestimento in velluto, nei toni del verde. Le misure sono 71 di altezza, 52 di larghezza e 56 di profondità. L'altezza della seduta è 44 centimetri. Il prezzo per tutto il gruppo di sei è di 700 euro. Torniamo a parlare di designer che ci hanno resi famosi in tutto il mondo per proporvi queste tre sedute, ne presento una, poi le altre due sono sugli scaffali, di Charles & Reims, produzione ICF. Sono le EA 117, anni 70-80. Sono sedie girevoli, con braccioli realizzate con strutture in alluminio e tessuto, tessuto originale, tra l'altro, di color rosso. Il tessuto è stato igienizzato nei nostri laboratori, presenta qualche piccolo segno di usura, ma in buone condizioni. In questo caso, quindi, chiaramente noi vi consigliamo di tenere il bello del prodotto originale, anni 70-80, senza sostituire il tessuto. L'abbiamo appunto igienizzato apposta per proporvi il prodotto già pronto da mettere in casa. Le misure sono 84 di altezza, 60 di larghezza e 60 di profondità, 46 cm di altezza della seduta e il gruppo di tre lo proponiamo a 990 euro. Ok, giro l'ultima. All in. All in. Doppia coppia. Una giatte. Questa piccola scenetta per dirvi cosa, che abbiamo un bellissimo tavolo chiamato Poker di Gio Colombo per Zanotta. Anni 70, con piani in laminato color bianco e panno verde in velluto con bordi in pelle. Le gambe sono in metallo cromato, non sono presenti i posaceneri che di solito fanno parte di questo di questo tavolo e come avete potuto vedere c'è un piccolo foro che abbiamo evidenziato nelle nostre fotografie, quello qua sul tessuto, che parla quello originale. Le misure sono 79 di altezza, 100 di larghezza e 100 di profondità. Il suo prezzo è di 990 euro. So che qualcuno sta già addocchiando questo super pezzo di design, ma ve lo presentiamo la prossima settimana. è ancora in fase di descrizione. Passiamo invece a farvi vedere questa coppia di poltrone anni 70, vintage, vela bassa di Giovanni Offredi per Saporiti. Appunto, una coppia di poltrone con tessuto originale Missoni, in buone condizioni generali. Presentano solo un piccolo taglio, facciamo notare questa parte del tessuto. Per il resto sono abbastanza in ordine. Le loro misure sono 72 di altezza, 84 di larghezza e 90 di profondità per un prezzo per la coppia di 980 euro. Abbiamo trovato la cassettiera perfetta per la vostra stanza, abbiamo trovato le poltrone, un tavolino dove giocare a poker, le sedie per il vostro tavolo da pranzo, cosa manca? Illuminazione. Abbiamo proprio qua due applique a muro anni 70. Sono di Pia Guidetti Crippa per lumi, realizzati in alluminio anodizzato, acciaio e vetro opalino. Le loro misure sono 36 di altezza, 29 di profondità e 26 di diametro per un prezzo per la coppia di 650 euro. Cambiamo decisamente il tipo di prodotto per presentarvi questa bilancia Giuseppe Grassi Genova. Passo dietro Giada così ve le inquadra bene. Della metà del Novecento circa ha funzionamento meccanico in ferro smaltato e dotata di piatto da frutta e piatto rettangolare con sponda. Ha il marchio della manifattura stampato sul quadrante e un adesivo applicato sul lato che ci sta facendo vedere Giada. Le misure sono 71 di altezza, 65 di larghezza e 35 di profondità per un prezzo di 280 euro. sempre illuminazione per questa coppia di lampade da tavolo Reggiani anni 60 ve la spengo se no non si vede una cippa tipo Space Age in vetro e metallo cromato disegnate da Goffredo Reggiani e prodotte negli anni 60 riportano l'etichetta della manifattura che poi vi faremo vedere e le loro misure sono 28 di altezza 15 di diametro minimo e 22 di diametro massimo. Mi sono accomodato su queste poltrone questa coppia già presenti sul nostro sito per presentarvi invece il prodotto che andrà la prossima settimana che è questo tavolo cubico anni 60 di manifattura italiana con strutture in metallo e doppio piano in vetro. Le sue misure ovviamente sono tutte uguali 45 per 45 per 45 e il suo prezzo è di 290 euro. Ritroviamo come potete vedere le media che vi ho presentato la settimana scorsa che tra l'altro sono già state vendute è un prodotto imperdibile come vi avevo detto. Vi presentiamo oggi questo bellissimo tavolo anni 50-60 in legno impiallacciato tec con gamba in metallo smaltato nero con inserti in ottone così come i quattro piedini guardate come sono raffinati. È stato restaurato completamente nei nostri laboratori quindi in condizioni molto molto buone. Le sue misure sono 77 di altezza e 100 di diametro per un prezzo di 1200 euro. Approfitterei già da visto che stiamo allestendo lo Luke and Read per farvi vedere i momenti coincitati dell'allestimento e approfittiamo di Letizia appunto che è qui con noi per chiedere che cos'è e come funziona lo Luke and Read ormai iconic event amatissimo imitatissimo anche ormai da tante piccole e grandi librerie come funziona? Allora all'ingresso diamo una borsa di tela in questo caso in questa edizione perché ormai è la sesta è questa borsina qui c'è tutta un'area dedicata che vedete già in parte qui dietro ricca di titoli di vario genere stracolma di tutte le tipologie tutti i libri si può scegliere diciamo i libri che più ispirano più piacciono tutti i libri che stanno dentro la borsa si portano a casa praticamente a regalo perché si paga solo la borsa eccoci arrivati al momento che aspettavate decretiamo il nostro vincitore che si è avvicinato tantissimo al prezzo di questa lampada il prezzo era di 480 euro e Gian Maria Basile che ci ha scritto su YouTube nei commenti con 440 euro è quello che si è avvicinato di più quindi buono di 100 euro spendibile su un acquisto da 500 adesso ci rispostiamo su per vedere l'oggetto di cui vi chiederò il prezzo puntata ricca di design quindi non potevamo che farvi indovinare il prezzo di un oggetto ancora di design in questo caso parliamo di Luigi Cacciadominioni per Azucena è il tavolino fasce cromate qualcuno lo conoscerà già fine anni 50 con piano in vetro e strutture in acciaio verniciato e cromato misure 45 di altezza 120 sia di larghezza che di profondità aspettiamo i vostri numerosi commenti possibilmente sotto questo video vi saluto ricordandovi i numeri 351 690 4263 o assistenza clienti chioccioladimanoinmano.it vi aspettiamo domani per il look and read e ci vediamo al prossimo video ciao